Italia Nostra torna a ribadire il proprio no alla realizzazione del percorso pedonale meccanico o scala mobile che dir si voglia nella gradinata Silvio Pellico, che collega via Cavour a via Crispi. L'associazione ambientalista di cui è presidente regionale il nisseno Leandro Ianni si dice pronta, tramite le parole dello stesso presidente, ad avviare tutte le iniziative per bloccare il progetto, a cominciare da una diffida alla soprintendenza dei beni culturali affinché ritire il nulla osta concesso per la realizzazione della scala mobile, pronta anche una petizione popolare per il no alla realizzazione del percorso pedonale meccanico. Il progetto della scala mobile rientra nel piano urbano di mobilità sostenibile, adottato con una delibera di giunta e poi approvato in consiglio comunale. Su questo punto Leandro Ianni ha evidenziato come molti cittadini si fossero opposti al progetto anche in consiglio comunale, quando erano intervenuti alcuni architetti sulla vicenda, tra cui lo stesso Ianni e i colleghi Cassetti e Saggio. Nei mesi scorsi ci siamo occupati diverse volte della scala mobile e l'assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Frangiamone ai nostri microfoni ha garantito che la realizzazione dell'opera verrà svolta nel rispetto di tutte le norme per tutelare uno dei simboli della città.